A poco più di un anno dalla sua rielezione il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, ha annunciato l'azzeramento della giunta. Il primo cittadino in mattinata ha incontrato i componenti dell'esecutivo per spiegare le motivazioni della sua decisione basata sulla necessità, a quanto emerso dal confronto, di una verifica con le forze politiche che sostengono la maggioranza. Bottaro ha ringraziato gli assessori per il lavoro svolto e ha annunciato che nelle prossime ore abbierà un giro di consultazioni utili alla composizione della nuova squadra di governo cittadino che dovrà affrontare le nuove sfide che attendono Trani, prima fra tutte quelle legate alla gestione dei numerosi fondi in arrivo. È un provvedimento che avevo già preannunciato da tempo. La necessità di una rimodulazione delle deleghe era sicuramente nell'animo già da tempo. Ho la necessità quindi di un confronto politico, ma lo faccio essenzialmente perché per grande senso di responsabilità che abbiamo nei confronti della città. In questo primo anno siamo riusciti a far arrivare su Trani circa 50 milioni di Euro di risorse che vanno spese però, vanno spese anche velocemente. Per fare questo io ho bisogno di una maggioranza forte, unita, determinata. Ho bisogno di un esecutivo e quindi un'aggiunta forte, unita, determinata. È il caso assolutamente quindi di tracciare una linea e partire, ripartire, infatti mi prenderò pochi giorni, ripartire con uno slaggio sicuramente diverso, con una determinazione diversa, con una velocità sicuramente diversa. Grazie. 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 Grazie.